Controlla sempre quella mano, non la fare in trassotto. Controlla sempre quella mano, sempre, sempre, sempre. Controlla sempre quella mano, non la fare in trassotto, vuole entrare sotto per attaccarti la gamba, occhio, occhio, non la fare in trassotto, mai, tieni sempre quella mano. Grazie. 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 Passate un minuto Jacopo. Provalo te Jacopo, sono lì. Bravo e due punti Jacopo, non lo fare entrare sotto. Assolutamente lì Jacopo, vai caccio, vai a lavorare lo stragolamento Jacopo. Grazie. 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 Grazie.